Sviluppo del territorio comunale di Monte Paone e del Comprensorio. Su questo tema si è discusso presso la Delegazione Municipale della Cittadina Ionica, nel corso di un convegno promosso dalla locale sezione del CDU. All'incontro, le cui conclusioni sono state affidate all'On. Mario Tassone, Vice Ministro e Presidente Nazionale del Partito, erano presenti numerosi sindaci ed amministratori, esponenti provinciali e regionali della coalizione di centrodestra. Tassone, oltre a discutere di infrastrutture e trasporti, quale chiave di volta per superare il gap di sviluppo dell'intera area, ha ribadito l'impegno del partito nel perseguire la costruzione di un nuovo centro moderato all'interno del panorama politico italiano, senza nulla togliere alla solidità dell'alleanza strutturata all'interno della Casa delle Libertà.